Sono Nuria Schender Nono e vi parlo dalla sala dell'archivio Luigi Nono a Venezia. Noi normalmente facciamo un festival in autunno. Quest'anno, per le cose che voi potete immaginarvi, faremo una versione ridotta del festival Luigi Nono, dedicato ai cento anni dalla nascita di Bruno Maderna e ai trent'anni dalla morte di Luigi Nono. Se volete sostenerci, vi ringraziamo e speriamo che anche per voi sarà un'occasione bella di sentire la musica di questi due compositori.